Ormai da diverse settimane siamo sempre più concentrati sul tema del caro energia, che è la grande e vera preoccupazione da parte della maggior parte delle imprese che rischia di diventare nei prossimi mesi un punto di non ritorno per molti piccoli imprenditori se non ci saranno interventi importanti e tempestivi. L'ultimo intervento in questo senso del uscente governo Draghi è stata l'approvazione di un nuovo decreto aiuti che complessivamente mette in campo circa 13 miliardi di risorse, di cui poco meno di 10 destinate espressamente a sostenere le piccole imprese per il pagamento delle bollette. Sono misure sicuramente ancora insufficienti che pure contengono qualche ulteriore elemento di interesse di apertura, in particolar modo il fatto che il credito d'imposta che già conoscevamo per il secondo e il terzo trimestre del 2022 viene confermato anche per i mesi di ottobre e di novembre, non ancora per dicembre, ma a questo dovrà provvedere pensiamo il prossimo governo, viene esteso anche alle imprese più piccole che hanno potenze installate per l'energia superiori ai 4,5 kWh. Ricordo che fino ad ora il limite minimo era quello dei 16,5 kWh, quindi questo escludeva di fatto molte piccole attività e viene portato al 30% della differenza tra il costo dell'energia subito per il 2022 rispetto a quella pagata nel 2019. Ripeto ancora non è la soluzione però è un ulteriore sforzo che ci auguriamo venga ripreso, confermato ed ulteriormente allargato dal prossimo governo. Questa è una campagna che stiamo conducendo da diverse settimane che ci ha visti attenti interlocutori pressoché di tutte le forze politiche e che ci auguriamo produca ulteriori frutti per i prossimi mesi. Poi ci dovranno essere le misure per così dire strutturali, gli interventi a favore delle energie rinnovabili, c'è, dimenticavo di ricordare, anche un provvedimento che mette in campo garanzie gratuite da parte dello Stato per poter dilazionare le bollette o comunque avere un finanziamento da parte degli istituti di credito che consenta di affrontare le scadenze imminenti, quindi un tema molto molto caldo sul quale continuiamo ad essere presenti, ripeto il nostro punto di contatto sosenergia-apaconfartigianato.it per farci presente le vostre difficoltà, i vostri problemi e per ricevere tutta l'assistenza necessaria da parte dei nostri uffici.